Non è difficile constatare che il rapporto tra i fedeli e Gesù si atto come una semplice devozione pare alla richiesta di preghiere e di aiuto nelle varie necessità della vita. Ottima esperienza di vita, ma non è il cammino di santità. In tal modo Gesù non costituisce la pietra angolare della nostra santificazione. Non si tratta di devozione al sagro cuore di Gesù, che è un'espressione nobilissima, ma di imitazione della sua vita. Il nostro programma di vita dovrà essere non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora dobbiamo vedere Gesù che è la nostra via. Cristo è l'unica via, nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo, già che nessun altro c'è salvezza e non vi è infatti altro nome dato dagli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. L'Apostolo Paolo afferma che gli uomini eletti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati, sono predestinati ad essere figli adottivi mediante Gesù Cristo. Di conseguenza Cristo è l'unica via per andare al Padre. Nessuno viene al Padre non per mezzo di me, se non conoscete me non conoscerete neanche il Padre. Tutta la vita del battezzato deve consistere nel realizzare in se stesso la vita di Cristo. O saremo santi in Gesù Cristo o non lo saremo affatto. Gesù verità. Nel Vangelo Giovanni, evangelista, presenta Gesù pieno di grazia e di verità. Gesù parlando di se stesso afferma «Per questo io sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Cristo si presenta come punte di riferimento con la sua persona, con le sue opere, con la sua dottrina. Nel contempo, l'uomo immerso nel sensibile e dominato dall'egoismo, reso debole dopo il peccato dei progenitori, dovendo animare alla verità mediante i sensi, facilmente può sbagliare. L'intignazione al piacere, l'inclinazione, meglio, al piacere immediato e le varie passioni impediscono l'accesso alla verità, specialmente a quella ardua del Vangelo. Gesù, nostra vita. Cristo è la nostra vita, la nostra verità, la nostra via. La comunanza di vita con Cristo implica delle responsabilità. Ogni persona inserita in Cristo col battesimo deve acquistare una configurazione crescente nel modo di pensare e di agire in Cristo. Il Nuovo Testamento ci offre similitudini ed immagini che esprimono la nostra meravigliosa e commovente unione con Cristo. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vita, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Padre Pio nella direzione spirituale chiedeva l'esercizio delle piccole cose, l'osservanza dei propri doveri, crescere nell'amore di Dio e del prossimo. Francesco volle Cristo al centro delle sue aspirazioni. Padre Pio sulla scia di Francesco d'Assisi diviene crocifisso. Nell'Equaristia trova conforto e sostegno.